Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radio. Prosegue la battaglia dell'ASL Pontina contro gli operatori sanitari Novax. Continuano a fioccare le sospensioni di sanitari che per scelta non si sono voluti sottoporre al vaccino anti-covid. L'ASL al momento non rende noti i luoghi in cui operano i sanitari sospesi, ma sappiamo che nelle scorse ore è arrivato il settimo procedimento che allontana un dipendente, in questo caso un infermiere che continuava a lavorare malgrado l'imposizione per legge dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari proprio per quanto riguarda il vaccino anti-covid. Polemiche a politica a fondi tra le opposizioni in Consiglio Comunale, un dirigente dell'ente che in una missiva inviata al sindaco della città, il presidente del Consiglio Comunale, aveva richiesto di limitare gli interventi in seno all'assise civica per evitare un aggravio di costi proprio al comune che nel corso dell'ultimo periodo sarebbe lievitato di circa 800 euro. Le opposizioni però non ci stanno e denunciando il tentativo di Bavaglio hanno preso carta e penna e in blocco hanno scritto al prefetto di Latina. La Baia Domizia sorride, nei giorni scorsi si sono ripetuti alcuni avvistamenti lungo la costa di Delfini, lo spettacolo della natura, come riportato da diversi media locali, oltre ad essere un bel vedere per chi si trovava sulla spiaggia, è anche un chiaro indicatore della pulizia delle acque, soprattutto adesso che è venuto meno anche il traffico subacqueo e la presenza di tantissimi turisti nella zona. Lotta al randaggismo, il comune di Minturno scende in campo con una delibera ad hoc. Nei giorni scorsi è stato approvato l'avviso pubblico per la tutela di animali d'affezione e la prevenzione del randaggismo canino. Il bando per la sterilizzazione gratuita dei cani padronali dei cittadini residenti del comune di Minturno dunque diventa realtà non una sterilizzazione dei cani randaggi, ma la possibilità per chi possiede degli amici e quattro zampe e vuole limitarne la riproduzione di farli sterilizzare con l'obiettivo di arrivare a dei risultati a medio o a lungo termine proprio sul randaggismo in diverse zone del paese. 3 milioni di euro per rimettere a nuovo l'edificio scolastico Alfredo Aspri di Fondi lo ha reso noto lo stesso comune che ieri ha spiegato come sia stata aggiudicata una gara d'appalto per una cifra molto importante pari addirittura a 3 milioni di euro per realizzare tutte le opere che servono per rendere più funzionali e sicure le scuole della città e in particolar modo per adeguare l'edificio simbolo per cui sono passati quasi tutti i cittadini della Piana di Fondi e intere generazioni, ovvero l'edificio scolastico Alfredo Aspri. Una bella notizia arriva dall'abbazia di Monte Cassino che vive con gioia ed emozione l'annuncio dell'ordinazione di Dom Alessandro Trespioli che è stato ordinato lo scorso sabato grazie all'imposizione delle mani di Monsignor Vittorio Francesco Viola Pescovo Emerito di Tortona nonché segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Questa era la nostra ultima notizia un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del Giornale Radio Locale